Ciao a tutti, sono Giuseppe Zinchiri. Vorrei presentarvi la strumentazione che utilizzo per amplificarmi nei nei miei concerti. Si tratta dell'amplificatore Giulia X e del microfono a contatto DINJI B48, prodotti entrambi dall'azienda Schettler. Con questi strumenti, insieme alla mia chitarra, vi farò sentire la sonata K11 di Domenico Scarlatti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.